Ciao a tutti, siamo i Mages of Lotus, benvenuti in questo video in cui vi farò vedere quali carte di Wilds o Valedrain si giocano nei vari formati. Cosa importantissima, le liste che vi farò vedere sono tutte provenienti dalle rispettive challenge, quindi sì, sono diciamo test, sono carte che si provano e non è detto che saranno stabili nei deck che vedrete, ma non sono test che hanno fatto Pluto e Topolino, sono test di giocatori comunque forti e che hanno performato bene in tornei importanti su Magic Online, quindi comunque sono cose da prendere in considerazione. Allora, andiamo in ordine di anzianità, quindi partiamo dal Vintage. Allora, in Vintage è entrato Besic the Mirror, vedetelo qua, in 4x, in sostanza in Tinker, quindi in questo mazzo qua è entrata in 4 copie. E fa veramente tanto perché grazie alla sinergia con tutti questi piccoli artefatti, che costano un sacco di soldi in questi Mox, noi in sostanza possiamo sacrificare un Mox per appunto il Bargain di Besic e ci prendiamo letteralmente quello che vogliamo. Poi, seconda carta, in Vintage c'è sempre Besic the Mirror in realtà, ma in un altro deck, ovvero in Belcher. In Belcher o Balustrade Spy deck, come preferite, penso che si chiami Belcher questo deck qua, anche qua si gioca in 4x. E' anche chiamato All Spells, questo deck, perché in sostanza non gioca Lande e quindi qua, diciamo, il meccanismo è sempre simile, cioè sacrifichiamo un Mox e qua in realtà abbiamo anche modo di fare token, mi sembra, sì, in teoria dovremmo avere di modo di fare token, forse no. Però in sostanza, sacrifichiamo un Mox e poi appunto possiamo con il Bargain prenderci quello che vogliamo e lo castiamo subito. Questo è un mazzo combo, chiaramente. Allora, poi, finito col Vintage, passiamo al Legacy. Allora, in Legacy abbiamo sempre Besic the Mirror, guarda caso, che è arrivato tra l'altro nella diciannovesima posizione in questa Challenge. Challenge, scusate, e allora si gioca in un matto combo questo con Gaia's Will e appunto questa carta la possiamo castare senza pagare mana, appunto, grazie a Besic the Mirror, sempre il suo Bargain. e, niente, facciamo... e in sostanza scombiamo perché possiamo ricastare tutte le spell che vogliamo dal nostro cimitero. È un mazzo questo... è un mazzo Storm. Poi vinciamo o di Empty Day Warrens oppure di Tendrils. Poi abbiamo sempre in Legacy, in ventesima posizione, attenzione, questo Questing Druid, non me l'aspettavo, sinceramente, in Legacy. Si gioca in 4x in Delver Tempo, in Delver Tempo, quindi è entrato in 4x, direi non male, non male. Poi, sempre in Legacy, abbiamo Besic the Mirror, ancora, in però un mazzo diverso rispetto a quello che abbiamo visto prima, altrimenti non ve lo farei vedere. E questo mazzo qua, sinceramente, non so come chiamarlo, ma è un Mono Nero, interessante perché si rivede anche in Tuturac. Comunque, insomma, Besic the Mirror ha rivalutato un sacco di archetipi che non si vedevano da un po'. E adesso eccoci qua, questo è arrivato quarto alla Challenge, quindi direi non male. Quindi 4 Besic the Mirror anche in questo Mono Black. Poi, sempre qua in questo torneo, all'ottava posizione, è arrivato, è arrivato nella Side Court of Garenbrigg. E questa è una carta non del set base, dovrebbe essere delle carte, sono le carte del Commander, mi sembra. È un incantesimo che quando entra in gioco ci fa diventare il Monarca. E poi a fine, a inizio mantenimento, mettiamo segnalini su due creature, due segnalini su due creature. Se invece siamo noi il Monarca, mettiamo il doppio di quei segnalini. E entrate in due perle nella Side. Quindi è un archetipo che sinceramente non conosco, quindi non so dirvi contro chi si Saida. Però intanto ve la segnalo. Poi andiamo avanti e abbiamo sempre in Legacy e in un torneo diverso, è arrivato in ventesima posizione, un deck che gioca in 4x Up the Beanstalk, in 4x in Summit Legacy qua. Allora, sì ragazzi, perché? Perché Force of Will intanto costa 5 e quindi con Up the Beanstalk ci fa pescare. Poi abbiamo le Line Binding, ma soprattutto abbiamo Iorion. Quindi Iorion cosa farà? Ci farà rientrare in gioco questo Up, ma in realtà prima al Cast pescheremo un'altra carta con Up. E pensate se avete due Up in gioco e fate Iorion, quanto pescate quattro carte. Questa carta la vedremo, piccolo spoiler, anche in altri formati. Ok, chiuso il discorso Legacy e passiamo al Modern, dove anche qua ci sono state delle piccole novità. Allora, abbiamo in quinta posizione, eccola qua, Up the Beanstalk, in un matto in 4-color Omnath, in 4x. Quindi questo deck non gioca Iorion, ma comunque dovrebbe giocare le Line Binding, se non erro. Sì. E poi gioca Lash Norn, gioca Solitude e quindi gioca Fury. Ecco, sono tutte carte che ci fanno pescare con Up. Chiamiamola Up, se no il video dura troppo. E poi abbiamo, sempre in Modern, sempre in questo torneo, in nonna posizione, è arrivato un deck che gioca in 4x. Questo, vabbè ragazzi, lo sapevamo già. E Not Dead After All. Quindi in Scam è entrata. Ha un piccolo plus rispetto alle carte che si giocavano prima, perché in sostanza ci dà un Aura, che dà più un segnalino... no, scusate, che fa prendere più uno più una creatura. E quando Laura va nel cimitero, ogni Oppo perde una vita. Io l'avevo letta diversamente all'inizio questo Wicked Roll, perché pensavo quando la creatura va al cimitero. Invece no, quando Laura va al cimitero. Ed c'è una grandissima differenza. Perché se ci esiliano la creatura, comunque l'incantesimo, anche se un token, passa per il cimitero. Quindi un danno lo fa sempre. Questo è molto importante, diciamo in ottica magari, più se giochiamo a mazzi mono-red. Infatti c'è una carta in standard che è entrata per questo motivo qua. Ma in realtà ve ne avevo anche parlato nella live. Comunque, abbiamo questa carta qui, che è entrata in nonna posizione. Poi abbiamo sempre nello stesso torneo, in tredicesima posizione, eccolo qua, il nostro Agatha Soul Cauldron. E' entrato in 3x in scales. C'è poco da dire. Quindi in questo deck è veramente una carta che fa tanto, perché ci dà i segnalini, che è quello che vuole fare il matzo. Se serve, fa it col cimitero. Passa l'abilità. E veramente si può fare veramente di tutto. Quindi questa è entrata tranquillamente in 3x. Poi abbiamo alla 21esima posizione, abbiamo sempre Agatha Soul Cauldron, ma in un archetipo diverso. Qua siamo in Yagmoth, quindi è entrata anche in questo deck qui. E sempre in 3x. Poi abbiamo in 25esima posizione, abbiamo Bisic the Mirror, quindi è arrivata anche in Modern. E questo è Cabal Coffers, esatto. Quindi, allora, è un po' al limite, nel senso, non abbiamo troppe carte per il Bargain. Cioè abbiamo l'Anello, e guardate qua, quindi per giocare il Bisic ha questo mazzo aggiunto il Talismano. E in effetti non è male, perché a turno 3 questo Talismano ci fa rampare. Facciamo Bisic, sacrificando Talismano, ci prendiamo Anello o Shield, insomma quello che ci serve, o Karn. E in realtà non è male. In realtà non capisco allora perché non si giochi il 4x di questo Talismano. Probabilmente il motivo è legato al fatto che comunque anche Bisic non si giochi in 4x. Quindi non è un mazzo, diciamo, che gira proprio totalmente attorno a Bisic. Quindi forse ci sta anche solo il 2x del Talismano. Comunque, andiamo avanti. Abbiamo quasi finito col Modern. Manca ancora una carta. Ed è nella 32esima posizione, è sempre Bisic The Mirror, che però, questo è un archetipo, credo, non so se esistesse già. No, aspetta, è Belcher? Sì, è Belcher, sì, sì, no, il deck esisteva già. È una versione un po' diversa, questa con 4x di Bisic The Mirror. Quindi, ragazzi, Bisic è arrivata anche in Modern. Ok, passiamo al Pioneer, dove abbiamo in seconda posizione T-93, che tra l'altro dovrebbe essere il pro player Mattia Rizzi, che ha giocato giustamente in 4x Slate of End. Quindi è entrata in 4x in UR Phoenix. Ma lo sapevamo già, ha preso il posto di Opt. Se andate a rivedere il video che ho fatto sulle Top Cards per il Pioneer, ho detto proprio questa cosa qua. Ovvero che avrebbe preso il posto di Opt, che in realtà non è vero, perché non ha preso il posto di Opt, scusate. Ma, però mi pare che ci sia una lista che ho visto, non questa però chiaramente, che comunque, vabbè, avevo detto che comunque sarebbe entrata in 4x. E qua in realtà quindi gioca 4 Opt, 4 Consider e 4 Slate. Quindi cosa ha tolto? Ah, ok, ha tolto un chart a course e probabilmente ha tolto, forse qualche Randa, non lo so. Sicuramente manca un chart a course, perché la lista ne gioca... Ah, no, ha tolto... No, Cruis... Ah, ecco cosa ha tolto. Ha tolto la Sorcery che dà i turni extra. Ci può stare. Cioè è una lista un pochino più solida questa, che però fa meno cose. Quindi sì, va bene, ci sta, ci sta. Poi abbiamo in terza posizione Monstruous Rage, che è entrata appunto in 4x. Anche questa, in realtà, ve l'avevo, diciamo, annunciata. E qui sì, diciamo, ho indovinato. Cioè avevo detto che aveva preso il posto di Invigorated Rampage. Rampage. E così è stato. Quindi più 2 più 0 fino alla fine del turno, più un Aura, che gli dà più 1 più 1 Trampol per sempre. Quindi è entrata in 4x in Boros Eroi. Poi abbiamo in quinta posizione un deck, un archetipo praticamente nuovo, dove ci sono un sacco di carte nuove. Allora, abbiamo Quest in Druid in 4x, abbiamo Godric in 1x, Ruby in 2x. Questa è una carta che non avevo preso in considerazione. Abbiamo Witch, Stalker, Frenzy in 2x di Main e 2x di Side. 5 danni, quindi giusti giusti per fare fuori Sheholdred. Quindi questo è un archetipo abbastanza... Cioè esisteva già in realtà un archetipo con Samut e tutte creature con rapidità. Diciamo che adesso probabilmente è stato un attimo rinforzato. Chiaramente il Quest in Druid non ha rapidità, ma ci sta a pennello in questo deck qua. E poi, sempre in Pioneer, abbiamo in tredicesima posizione. Quindi qua si va un po' oltre. Abbiamo The End in 1x, Main Deck. E Decide, il Decadent Dragon. Ci può stare, perché comunque in Pioneer, Rakdos è un mazzo molto giocato. Quindi ci sta ad avere questo Decadent Dragon per il Mirror. Perché dico solo per il Mirror? Perché l'abilità Adventure, quella con cui esiliamo le due carte di Oppo, poi non dice che per giocare quelle carte possiamo usare un mana di qualsiasi colore. Il mana deve essere proprio quello. Quindi va bene in Mirror, in altri matchup invece no. Poi abbiamo in quindicesima posizione, possiamo trovare sempre The End, in Rakdos Sacrifice. Una Main Deck e una nella Side, vedete. Poi abbiamo in diciottesima posizione, in RG, ok, è entrato questo The Huntsman's Redemption. Non è male, anche se secondo me, G1 è un po' così. Anche se in realtà è vero che in questo Dec sfruttiamo bene tutti i tre i capitoli. Perché comunque fare anche il capitolo 3, cioè dare più due più due a due creature a travolgere, non è male in RG effettivamente. Secondo me questa carta assume maggior valore però post-side, perché possiamo tutorare Trun, in sostanza. Questo Trun in due per contro certi deck è veramente forte. Se possiamo tutorarlo è una gran cosa. Poi abbiamo in diciottesima posizione, no era questo, sì, quindi passiamo alla trentunesima posizione. Ovviamente ragazzi i numeri non è che me li ricordo a memoria, me li sono segnati e adesso sto leggendo. Allora, in trentunesima posizione abbiamo questo Candy Trail che è entrato di side in Rona Combo. Allora, può essere preso da carne, quindi probabilmente è una carta che sì, cioè ci dà quelle tre vite che possono magari aiutarci contro un mazzo aggressivo e ci fa anche pescare una carta però. Quindi il piano combo continua, perché oltre alle vite peschiamo. Ok, poi, fatti mi dare un'occhiata a una cosa. Ok, poi abbiamo in un altro torneo Pioneer, abbiamo altre carte che sono entrate. Ecco qua, Jabberwocky ragazzi, questo è uno dei player più forti di Magic Online. Allora, è entrato in Rakdos Sacrifice, questo Gumdrop Poisoner, che è un po' discutibile secondo me. E questa Questing Druid in 1x, quindi queste sono veramente piccole piccole modifiche. E Gundrap Poisoner è, diciamo, ha una buona sinergia anche appunto col gatto che ci fa guadagnare una vita. Però, insomma, non lo so, non credo che la continueremo a vedere. Poi abbiamo in ottava posizione Quick Study, che è entrata in UV Control. Io non la giocherei mai, ma questo ragazzo qua è arrivato ottavo alla challenge, quindi giù il cappello. Poi, abbiamo in quattordicesima posizione. Vediamo, vediamo cosa c'è. Ok, c'è questo matto che si basa su... Che mazzo è questo? Iorio è Omnath, è un Omnath for Color, che gioca 4 app The Beanstalk. Quindi questa carta, ragazzi, è entrata in Legacy, in Modern e in Pioneer. Infatti sta la versione FOI, ma anche la Regular ha un buon prezzo. E c'è poco da dire. Ha una sinergia incredibile con tutte le carte che costano 5 e soprattutto con Iorion. Cioè, con Iorion veramente fa i macelli. Poi, abbiamo quasi finito col Pioneer, perché ci manca solo la diciottesima posizione, in cui troviamo la Tartarugona, che è entrata in Monogreen, in 3x. E vi dico questa cosa, nei vari Monogreen che ho visto, della challenge, pochissimi deck avevano la Tartaruga. Quindi, secondo me, non la vedremo. Cioè, ci sta a testarla, la mia idea è che non sia così performante in questo tipo di mazzo. Comunque, insomma, anche qua, il posizionamento non male, diciottesima posizione, sono premi abbastanza alti. Ok, con il Pioneer abbiamo finito. Adesso passiamo allo standard. Allora, per lo standard, in realtà, dovrei fare praticamente un contenuto a parte, altrimenti poi il video, se no, verrebbe troppo lungo. Ma, in realtà, vi sintetizzo un attimo il tutto. Allora, in sostanza, vi dico le cose, secondo me, più importanti. Allora, questo Brumble Familiar è entrato in 4x in un mazzo che c'era già, in Ramp, in sostanza. È un Ramp, questo, che vuole fare Atraxa, che vuole fare Hard Migration. Quindi è entrato in 4x, non male. Ed è entrato in 4x anche Virtue of Persistence. Il mazzo rampa, quindi non avremo così troppi problemi a castarlo, a castare l'incantesimo a questo 7. Nei primi turni è una rimozione, quindi, in effetti, in Ramp è bello. Questo, in realtà, è un cambiamento, però, perché Ramp mi pare che non fosse, che non giocasse Nero. Quindi ha splashato Nero per la Virtù, credo. Perché effettivamente la Virtù è abbastanza perfetta per un mazzo Ramp. Perché prima ti tolgo la minaccia e poi faccio la mia bomba, tutto con la stessa carta. E quindi così. Poi, altra cosa che volevo dirvi, che volevo segnalarvi, eccola qua. Il mazzo Fatine. Ragazzi, le Fatine sono arrivate in standard. Sinceramente mi hanno sorpreso, non credevo. È proprio questo, un archetipo Fatine con Kaito. Kaito è una grandissima carta. E vediamo che c'è anche The End nella side, quindi ci sono tante carte nuove. Però qui la notizia è, l'archetipo Fatine c'è. E non è l'unico deck Fatine aver fatto top 32 in questa challenge. Poi vediamo se ci sono altre cose da segnalarvi in maniera proprio fast. Ecco qua. C'è un altro archetipo nuovo. BG Midrange con Mosswood Dreadknight e la Tartarugona e il Lord Skitter. Quindi anche questo è un archetipo nuovo. La Virtù Nera. E anche questa è la notizia. Quindi abbiamo già due, tre archetipi nuove in realtà. Perché abbiamo visto che Ramp ha splashato di nero. Anzi, ha aggiunto proprio il nero. Perché anche carte che costano doppio mana nero specifico. C'è BG Midrange e c'è Fatine. Vediamo se ci sono altre cose da segnalarvi. Vabbè, qua c'è Up the Beanstalk. Ma direi che più o meno è questo. Entrata, vi anticipo anche la Virtù Bianca, chiaramente. Eccola qua. Entrata in un bianconero Midrange. L'ho vista anche in altri deck. E magari, tant'io ragazzi, vi lascio il link in descrizione. Quindi, magari, se volete vedere meglio voi le carte che sono entrate in standard, lasciandovi il link, controllatela. E vi ringrazio. Fatemi sapere se questo tipo di contenuto può piacervi. E io lo ritengo molto utile. Perché in sostanza in un video solo avete tutte le carte che fino a questo momento sono entrate nei vari formati. Le carte, ovviamente, dell'ultima espansione. Fatti bravi e a presto. Ciao. Grazie a tutti.